Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra carrellata con, probabilmente per ora, l'ultimo personaggio leggendario di cui parleremo, in Sword of Convallaria, perché poi ci inizieremo a dedicarci anche ai personaggi epici, perché ovviamente c'è anche stata richiesta di parlare dei personaggi epici e quindi ne parleremo. Oggi invece parliamo della Principessa Inanna. La Principessa Inanna è conosciuta all'interno del gioco di Sword of Convallaria, per chi ha seguito la storia, per chi ha avuto modo comunque di seguire bene o male la storia, è la Principessa del Regno di Iria. È un personaggio molto amato dalla sua popolazione e lei stessa ha cercato di mantenere ordine all'interno del Regno ed ha sempre cercato di soddisfare praticamente tutti i suoi doveri, tutti i suoi doveri da Principessa. È riconosciuto dal popolo per avere un'anima gentile, per avere un'anima nobile ed essere sempre ben disposta ad ascoltare il suo popolo ed è vista per l'appunto come una sorta di punto di riferimento, è un faro di speranza appunto per il Regno di Iria. Però che cosa succede? Succede che durante il periodo di guerra, ovviamente, tra il Regno di Iria e la città di Waverun, di Waverun in questo caso, durante appunto il cosiddetto Trattato di Pace è successo appunto quello che si vede a inizio del gioco, ovvero una sorta di rivolta, una sorta di roba particolare che ha scosso un pochettino le fondamenta del Regno e ha scosso un pochettino le fondamenta di quello che è stato anche la voce che parlava appunto della sua successione al trono e quindi di conseguenza è cambiato un po' tutto quello che si è visto all'interno del gioco portando poi successivamente Inanna ad unirsi alla compagnia o comunque al fronte degli Sword of Convallaria, ovvero dei mercenari di Sword of Convallaria, capitanati da Rawia, Feikal, Maita, eccetera, eccetera. Però di che cosa dobbiamo parlare di questo personaggio? Ovviamente Inanna è uno, se non al momento, l'healer per eccellenza o comunque il supporto per eccellenza del gioco e sinceramente parlando vi consiglierei di investirci qualche risorsa dato che per chi non ha potuto prenderla è possibile trovarla all'interno del dual banner presente nel periodo di settembre che dovrebbe scadere tra l'altro a breve quindi per chi effettivamente non è riuscito ad ottenerla se ha qualche pool da voler utilizzare assolutamente consiglio l'acquisizione di questo personaggio che è veramente veramente molto molto forte è vero che è anche l'unica leggendaria di supporto del gioco però come vedremo anche in futuro ci sono delle sostituzioni dei personaggi epici ma quello che riesce a fare lei ovviamente è superiore rispetto a tutti quanti gli altri lei tra l'altro ha anche una peculiarità molto interessante ovvero quella di essere un personaggio chiamiamolo così sinergico tra virgolette perché ha la possibilità di essere utilizzata sia nella categoria del regno di Iria quindi avere l'affinità con i personaggi del regno di Iria ma al tempo stesso fa parte anche della categoria Sword of Convallaria proprio per quello di cui vi stavo raccontando poco fa per quanto riguarda ovviamente la sua storia per quanto riguarda la sua trama in generale quindi è molto interessante perché sinergizza fondamentalmente con due categorie molto particolari quindi un qualsiasi team tra virgolette perché poi ovviamente bisogna anche vedere che tipologia di team utilizzate però in base al team che voi utilizzate Inanna è praticamente sinergica e vi consentirà di sfruttare soprattutto le passive che aumentano magari attacco e difesa se ci sono tot personaggi di quella categoria all'interno del team che sono delle passive che hanno praticamente i personaggi leggendari le leaders, se così vogliamo dire, le leaders aura e quindi vi consente comunque di poter giocare veramente con praticamente due mazzi di carte quindi questa già è una sua peculiarità molto 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 interessante mentre invece se vogliamo iniziare a parlare del suo tratto che è ovviamente la sua parte più interessante e la sua caratteristica principale si chiama Perla di Iria ovvero all'inizio della battaglia la principessa Inanna riesce ad evocare una guardia della principessa che è esattamente un'unità un'unità tank quindi un'unità verde, colore verde quindi un tank vero e proprio che praticamente verrà evocato dalla principessa avrà un suo moveset avrà ovviamente il suo livello avrà la sua abilità eccetera eccetera alla fine del turno lei riesce a curare un alleato con gli HP più bassi con la percentuale diciamo con un raggio di tre caselle rispetto a dove si trova lei in base al 20% del suo attacco magico e garantisce un buff random di livello 1 per due turni quindi lei praticamente fa un po' come Maita che ha la passiva appunto che permette di curare un personaggio con pochi HP alla fine di ogni turno lei fa la stessa cosa solo che lo cura in base al suo attacco magico e in più gli consente di ottenere un buff randomico quindi veramente veramente eccezionale una passiva una passiva veramente figa una passiva veramente veramente figa mentre invece per quanto riguarda le sue skill per quanto riguarda ovviamente anche le abilità che io personalmente vi consiglio di utilizzare e di sbloccare per avere comunque una inanna competitiva mettiamola così tra virgolette dobbiamo partire ovviamente dall'inizio partiamo dall'inizio dove abbiamo la prima abilità che sarebbe defense boost dove è un'abilità di supporto che garantisce difesa di livello 2 a tutti gli alleati che si trovano praticamente nella zona che lei va a targettare e garantisce anche l'immunità a dei debuff di riduzione difesa per due turni è un'ottima abilità è sicuramente molto valida ha un cooldown di tre turni e un punto energia che bisogna utilizzare ma io invece vi consiglierei per avere lo stesso turno di cooldown perché comunque abbiamo sempre tre turni di cooldown abbiamo comunque un'abilità che per me risulta essere eccezionale che consuma due punti energia però ci consente di ottenere a un alleato praticamente che ha già agito permette di sbloccare la possibilità di agire di nuovo quindi cioè ha la possibilità tramite act again che vediamo se qua ve lo fa vedere però no ok quindi per ogni personaggio che comunque acquisisce l'abilità di act again consente di ottenere attacco aumentato di livello 2 e difesa magica aumentata di livello 2 per due turni inoltre se il target in questione possiede il buff di guard of the princess praticamente gli viene curato un 60% di hp in base all'attacco magico di nanna guard of the princess è praticamente il cioè nel senso se il se il target di questa abilità è la guardia evocata dai nanna inizio turno perché vi ricordo appunto che nanna può evocare questo guardiano all'inizio del turno praticamente gli cura anche il 60% di hp in base all'attacco magico di nanna quindi diciamo che possiamo avere una sorta di bodyguard e riusciamo praticamente a tenerlo in vita il più possibile quindi per me questa comunque rimane un'abilità assolutamente forte perché aumentare attacco e difesa magica è incredibilmente valido da questo punto di vista successivamente abbiamo guard dove appunto abbiamo una skill istantanea che praticamente consente di teleportare il soldato quindi il guard of the princess di fronte ai nanna e permettere alla guardia di ottenere potential burst per due turni che praticamente consente di incrementare attacco del 20% e difesa del 40% con immunità a tutti i debuff quindi possiamo praticamente richiamare la guardia se in un certo senso si dovesse allontanare troppo farla ritornare nei pressi di nanna e buffarla e potenziarla inoltre quando la guardia viene sconfitta la skill si trasforma in new guard of the princess quindi ci consente praticamente di rievocare fondamentalmente un altro soldato quindi qualora dovesse crepare il nostro soldato evocato automaticamente inizio della battaglia potremmo evocarne un'altra una skill che ripeto potrebbe essere interessante ma sinceramente a me non mi garba più di tanto proprio perché la sua controparte è una skill che utilizza due punti energia e non ha cooldown mentre invece questa non utilizza punti energia ma ha un cooldown di tre turni quindi ogni volta che spostiamo la guardia o vogliamo evocare la guardia dobbiamo comunque aspettare tre turni e tre turni sono comunque tanti io invece preferisco comunque assolutamente il princess comfort che è una skill di cura quindi assolutamente perfetta per lei dove praticamente riusciamo a curare tutti gli alleati ad almeno due caselle di distanza dal personaggio stesso in base al 60% del proprio magic attack e riuscire a dispellare addirittura due debuff quindi non solo curiamo ma dispelliamo anche i debuff quindi questa è una skill che secondo me è praticamente imprescindibile bisogna assolutamente avere su un personaggio come in Anna andiamo avanti invece con protection of light che è in questo caso la reaction quindi la skill di reazione del nostro personaggio che ci consente di di proteggerci fondamentalmente quando veniamo colpiti da un attacco single target il nostro danno viene ridotto del 30% e questo effetto ovviamente può essere attivato una sola volta per ogni turno quindi quando veniamo attaccati singolarmente abbiamo una bella riduzione del danno e tecnicamente dovremmo riuscire magari a sopravvivere a un colpo che potrebbe risultare fatale mentre invece l'altra reazione sarebbe battlefield trial dove appunto abbiamo la possibilità di diminuire il danno subito in questo caso dell'8% e per ogni personaggio sconfitto ad almeno 5 caselle di distanza dai nanna abbiamo la possibilità di incrementare attacco magico del 6% fino al 30% quindi abbiamo diciamo 5 nemici che possiamo eliminare in questo raggio di caselle per incrementare le statistiche di nanna a me sinceramente non mi interessa perché comunque i nanna per me sarà un personaggio che rimarrà sempre nelle retrovie non avremmo modo di in generale portarla avanti è vero che ovviamente i miei avversari verranno eliminati dagli altri personaggi però aumentare le statistiche per cosa aumentare la cura sì ma non c'è bisogno preferisco comunque subire meno danni e avere anche la possibilità di sopravvivere magari a un attacco più prepotente però ovviamente poi le scelte sono sempre vostre attivato ovviamente quello che vi interessa di più altra abilità invece al rank 7 light of sanction dove appunto abbiamo danno magico che si basa sul 60% dell'attacco magico della nostra inanna e permette di essere un danno a oe a tutti i nemici che distano almeno di due caselle in base a dove si trova lei e inoltre una volta colpiti da questo attacco inanna ha la possibilità di dispellare due buff dei nostri avversari e turni di cooldown e due punti energia per utilizzare questa skill che però io ovviamente ho preferito diciamo lasciare da parte perché volevo appunto una skill di supporto in questo caso soulmate dove praticamente garantiamo a tutti gli alleati che distano tre caselle di distanza da inanna di ottenere co-attack e co-defense per tre turni e questo secondo me è una cosa molto interessante inoltre per tutti i personaggi che fanno parte della categoria di iria tutto sia co-attack che co-defense viene esteso di un turno in più quindi anziché essere tre sono addirittura quattro turni ma che cos'è co-attack e co-defense praticamente sono co-attack è un buff che incrementa l'attacco del 5% per ogni alleato che si trova a due caselle di distanza fino a un massimo del 15% e co-defense è praticamente la stessa cosa però con la difesa quindi difesa aumentata del 10% per ogni alleato che si trova ad almeno due caselle fino a un massimo del 40% quindi vuol dire che praticamente quattro alleati vicini saranno più forti così come anche tre alleati vicini saranno più forti dal punto di vista offensivo e quattro alleati invece vicini dal punto di vista difensivo saranno più forti quindi tenere diciamo tutti quanti vicino quindi giocare con un party che si sposta in modo compatto e che si sposta ovviamente in modo diciamo coeso ci consente di essere anche più forti in generale se consideriamo il fatto che poi abbiamo anche una riduzione del danno praticamente in Anna se cammina fianco a fianco con i suoi alleati praticamente diventa un tank incredibile potrebbe resistere a qualsiasi danno successivamente abbiamo merciful strike dove appunto è un attacco questo è un attacco che hanno praticamente quasi tutti healer è un attacco praticamente di base che effettua l'80% di danno magico al nostro avversario e permette alla prossima skill curativa di avere un'efficacia più alta del 15% quindi è una skill che comunque possiedono bene o male tutti i curatori io invece come sempre preferisco la parte diciamo più debuff infatti in questo caso noi quando attacchiamo con il nostro attacco di base abbiamo la possibilità di fare l'80% sempre di danno magico in base ovviamente al nostro danno magico ma infliggiamo difesa fisica e difesa magica meno uno in questo caso per due turni al nostro avversario che secondo me risulta essere anche più utile in base alla situazione mentre invece al rank 11 appena avrò la possibilità di arrivarci assolutamente sbloccherò questa ovvero flight of the princess è un'altra skill di cura che ci consentirà appunto di avere un sacrificio da parte di nanna del 90% dei propri hp correnti per dispellare tutti i debuff e guadagnare l'abilità invisibility quindi invisibilità e ovviamente prendere il buff di healing 5 addirittura quindi lei si riduce tutti gli hp diventa invisibile e allo stesso tempo diventa un mostro per quanto riguarda la cura inoltre estende il raggio del suo tratto diciamo del tratto delle sue skill di due diciamo per due volte e cura ovviamente gli alleati in quel raggio tutti gli effetti vengono comunque prolungati per due turni per quanto riguarda ovviamente il trite è ovviamente che ogni personaggio possiede i propri trite quindi gli effetti della propria diciamo della propria abilità innata chiamiamola così e in questo caso praticamente noi permettiamo di far sfruttare il tratto dei nostri personaggi per ben due volte ogni volta quindi immaginate lei che per esempio cura il personaggio con meno hp alla fine di ogni turno ecco lei praticamente si ricura due volte da sola ha un cooldown di 5 turni ovviamente non costa punti energia ma questa abilità è eccezionale inoltre healing 5 consente di incrementare la potenza dell'healing addirittura del 50% e invece l'invisibilità è praticamente che il personaggio non può essere targettato dalle skill però bisogna fare attenzione perché può essere targettato dalle skill aoe quindi bisogna fare bisogna fare molta attenzione a non mettere in anna in posizione di farsi attaccare o da una skill aoe o comunque anche dal danno aim pro mental quindi vuol dire il danno che viene provocato dall'ambiente ok quindi bisogna cercare di tenerla a distanza però al tempo stesso abbiamo la possibilità di poterla sfruttare per curare in modo mostruoso e addirittura renderla invisibile quindi non farla attaccare dai nostri avversari molto 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 comodo mentre invece l'altra abilità sarebbe magic defense command che è un'aura in questo caso quindi un'abilità passiva che incrementa la difesa magica del 30% per tutti gli alleati che stanno praticamente a due caselle di distanza dai nanna quindi direi che è una cosa assolutamente trascurabile in base soprattutto a quello che riusciamo a fare tramite questa abilità incredibile mentre invece per quanto riguarda ovviamente le armi gli accessori e i trinket chiamateli come volete del nostro personaggio ci sono diverse soluzioni che comunque avrò modo di potervi mettere anche su schermo qualora abbiate voglia di sperimentare e abbiate voglia anche di cambiare un pochettino il setup del vostro personaggio anche se io momentaneamente ovviamente mi trovo bene ma soprattutto preferisco utilizzare il reorganized cube che mi consente di incrementare la mia capacità di healing del 3% e in aggiunta mi consente di poter dispellare un debuff dal mio alleato se utilizzo ovviamente una skill quindi se utilizzo una skill di cura riesco comunque a dispellare dei debuff dal mio alleato e penso che sia una cosa molto 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 comoda ovviamente su schermo vi metterò anche le altre alternative che potrete utilizzare con il personaggio di nanna per quanto riguarda invece purtroppo il trinket sono un attimo diciamo vincolato perché non ho tutti questi gran trinket purtroppo potrei utilizzare anche questo giusto per avere una cura in più e un altro dispel del mio diciamo del mio alleato ma sinceramente non mi interessa più di tanto perché preferirei anzi in questo caso preferisco perché sto utilizzando appunto questo oddio eccolo qua dove praticamente diminuisco il danno dagli attacchi regged quindi qualora mi volessero attaccare dalla distanza ho una riduzione del 4% che unita anche alla riduzione dei danni che prendo tramite la reaction sono praticamente un 34% di riduzione di danno che uno dice vabbè potrebbe essere una cagata però intanto mi consento di proteggermi vi metterò sempre a schermo ovviamente tutte le varie possibilità di altre armature utilizzabili dai nanna quindi potrete vedere poi quelle che secondo me sono migliori e che purtroppo non posso farvi vedere per forza di cose mentre invece per quanto riguarda il tarot io ovviamente ho messo il mercy of the high fright test dove appunto abbiamo la possibilità di incrementare la cura di un ulteriore 15% quindi abbiamo la possibilità di avere un'inanna veramente spinta totalmente sull'ealing sono stato anche fortunato perché ho preso l'ultima passiva a livello 60 di questo trinket o comunque di questo tarot dove appunto abbiamo un ulteriore incremento dell'ealing del 15% e inoltre se il mio personaggio sta morendo abbiamo un ulteriore 15% di incremento della cura quindi praticamente io già solo con questo tarot incremento del 45% anzi del 30% fisso le mie cure in più un altro 15% se sto morendo quindi ho la possibilità veramente di diventare molto 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 forte dal punto di vista delle cure che è ciò che mi interessa semplicemente dal mio personaggio ho visto in giro anche alcuni che utilizzavano il silence of the hermit per avere una diminuzione dei danni subiti del 10% che potrebbe essere comunque interessante perché avere comunque un'inanna che sopravvive e quindi avere un'inanna molto tankosa che riesca comunque a diminuire i danni perché qui abbiamo un 10% di danni più un 10% preso a livello 60 più il 30% di reaction praticamente abbiamo una riduzione del 50% se dovessi utilizzare questo tarot nei confronti di inanna quindi la riduzione del 50% dei danni è comunque molto valida però diciamo che io ho un 30% fisso più una cura che aumenta quindi direi che mi trovo abbastanza bene e poi ho visto altri che consigliavano l'elegance of the empress dove dopo aver utilizzato una skill viene convertito un debuff in un buff praticamente quindi potrebbe essere carina l'idea di avere comunque inanna che riesca in un modo a convertire questi debuff ma abbiamo visto che comunque noi i debuff con una skill o con l'altra possiamo direttamente dispellarli anche se appunto ripeto la soluzione di poter cambiare il debuff in buff è comunque un'idea interessante quindi io direi che questi tre sono effettivamente delle valide opzioni per quanto riguarda i tarot da utilizzare dai nanna ovviamente scegliete quello che più vi aggrada quello che più vi piace o comunque quello con cui vi trovate meglio durante le vostre battaglie e per i nanna direi che non c'è più niente da dire al momento quindi io con i personaggi leggendari al momento chiudo perché ci sarebbero comunque cioè io comunque ne ho altri personaggi leggendari perché possiedo praticamente Rauia possiedo Feikal e Maita ma questi li possediamo tutti perché sono comunque dei personaggi o anche Iggy fondamentalmente di cui potrei parlare ma Iggy personalmente non mi piace tanto quindi non credo di volergli dedicare diciamo una discussione vera e propria magari più avanti avrò un modo di dedicargli una discussione ma preferisco magari concentrarmi su alcuni personaggi epici come Angel che è veramente molto molto buona e ce ne sono veramente diversi che come personaggi epici sono veramente interessanti e quindi preferirei concentrarmi sui personaggi più utili dal punto di vista di gameplay sia per quanto riguarda ovviamente il PvE ma anche il PvP mettiamola così quindi sono personaggi che preferirei discutere un po' meglio con ovviamente coloro che sono interessati a Sword of Convallaria detto ciò penso di poter chiudere non ho nient'altro da dire spero che il video al solito possa esservi stato utile ed essere interessante io vi aspetto con il prossimo appuntamento e ci becchiamo alla prossima ciao ciao ciao